25 anni, un marito, quattro figli ed una fedina penale davvero lunga. Conosciuta le forze dell'ordine, non è la prima volta che viene fermata, non lavora, almeno legalmente, e percepisce il reddito di cittadinanza. Ieri la giovane residente a Trento è stata arrestata dopo aver messo le mani nella borsa di una donna di 78 anni. Ha preso il portafoglio facendosi aiutare da un minore, il nipote del marito. I due hanno approfittato di un attimo di disattenzione dell'anziana che aveva lasciato la borsa nel carrello, ma il gesto non è passato inosservato agli uomini della sorveglianza del supermercato di Onè di Fonte, che sono immediatamente intervenuti bloccando la donna ed il ragazzino in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Erano stati proprio loro, i militari dell'arma, ad avvertire della coppia di giovani che già da qualche giorno si aggirava nel negozio, verosimilmente per prendere di mira anziani intenti a fare la spesa con l'obiettivo di sottrare loro portafogli ed effetti personali. Quando nelle immagini delle telecamere sono stati visti nei paraggi del supermercato, i militari hanno allertato la sorveglianza. Oggi si è svolto il processo per direttissima per tentato furto aggravato. La donna, che ha confessato il reato davanti al giudice, ha patteggiato tre mesi ed una multa di 100 euro ed è stata rimessa in libertà. Il minore è stato invece deferito all'autorità giudiziaria a minorire per gli stessi reati.